Salve a tutti da Arpapi, volevo spiegarvi in poche azioni cos'è per noi il concetto della felicità. Italia a quattro zampe, la voce di tanti pelosetti del mondo. Giusto per farvi capire, questo per noi è il concetto della felicità. Un pelosetto che gioca, vedere Eva che gioca salvata dalla strada è una felicità. Una felicità è vedere anche Totino che dà i bacetti alla mamma di domenica mattina. E questa è una grande felicità anche se Suami non è tanto felice. E poi un'altra felicità è vedere questi altri pelosetti che giocano tra di loro. Il piccolo Tato, il tripodino con Mimmo che già è stato adottato. Poi c'è anche un piccolo piccolo dispiacere perché abbiamo Delfina invece che è un po' ammalata perché c'è un po' di febbre. Eccola qui dove sta? Ho perso un attimino. Allora voglio far vedere se è qui dentro Delfina. Vabbè è tutta nera, certamente non si vede. Suami che scappa ovviamente da Totino. E regà, questo per noi è felicità. Vedere loro felici e contenti a casa del papi. Ma non è finita qui. Certamente tutto quello che avete visto è un gran pezzo di felicità. Ma non è solamente questa la felicità. Perché la domenica si diventa tutti un po' più buoni. È un giorno di relax, no? Se dice sempre aspettiamo domenica per fare questo, aspettiamo domenica per fare quest'altro. E la domenica le persone, quelle buone, 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 se ne vanno anche a Messa. E a proposito di Messa abbiamo anche una pelosetta che ama tanto le canzoni ecclesiali. Allora, ditemi un po' tra tutte e due chi potrebbe essere quello più predisposto all'ascolto delle canzoni della Chiesa. Certamente non è Totino perché è un pazzo. Sarà sicuramente la Santissima. Non la facciamo vedere da tanto tempo. La Santissima Suami che ci ha fatto veramente sorridere tanto in tanti video. Allora abbiamo organizzato per lei una cosa che sicuramente gli piacerà tanto. La volete sentire la Santissima? Questa è la nostra Santissima. La Santissima Vabbè, mentre cantava è arrivata una telefonata che ci ha bloccato tutto. Capita anche questo, il bello della diretta. Però giusto per farvi vedere che cos'è per noi il concetto della felicità. Gattini che giocano, pelosetti felici e contenti come Totino che rompono le scatole. Ma soprattutto la nostra Suami, quella che abbiamo sempre chiamato la Santissima, che canta, canti benissimo. Lei è una rip, guardate le zampe incrociate. è proprio un personaggio importante di casa del Papi. Grazie Santissima Grazie Santissima